Ma dov'è Farotube? Qua c'è il suo mezzo ma non lo vedo mica Ah ecco! Buonasera a tutti ragazzi! Oggi siamo qui con un nuovo video perché devo fare la presentazione di un pezzo doc che sarà nel canale lo vedrete presentato in questo video e lo vedrete poi prossimamente nei successivi video quando andrò a farci manutenzione ma soprattutto andremo a farci le prime elaborazioni Dai vieni qua! Vediamo cosa è stato portato a casa Allora ragazzi questo bellissimo simpatico tornio viola ovviamente l'ho portato a casa oggi che è stato diciamo così un'occasione che ho trovato mi sono fatto oltretutto un regalo di autocompleanno perché a breve compirò anche gli anni ovviamente sponsorizzazione come vuole la tradizione Sì esatto E che dire oggi sono andato a ritirare questo tornio chiaramente da banco per il momento l'abbiamo solamente scaricato dalla macchina che l'ho messo qua su E' rotto E' rotto E' rotto E' rotto E poi insomma arriverà tutta la sistemazione quindi ricordatevi di iscrivervi al canale trovate il tasto iscriviti sotto al video e di attivare la campanellina Allora che cosa dire? Diciamo proprio due cose veloci poi lo faremo una presentazione vera e propria prossimamente è un BV20 quindi classico tornio che più o meno utilizzano tutti gli hobbysti di cinese ma di buona comunque qualità per farci teste ventolini lavorazione alla trasmissione e tutte queste cose qui è un po' da farci manutenzione perché è rimasto fermo da un po' di tempo l'ho recuperato da una signora che appunto purtroppo il marito è venuto a mancare non sapeva più cosa farsene e l'ha ceduto a me sono andato all'acquistarlo oggi e niente insomma quindi abbiamo la chiave per fare le regolazioni esatto e basta se avete consigli da darmi qualche manuale per iniziare perché ne avrò bisogno dovrò studiarci sopra questa è la location corretta ma chi è che filma? chi filma? ma? indovinate chi filma? facci vedere eccolo chi filma ve lo ricordate? SIC vince stay tuned perché arriverà adesso breve un video ignorante del signorino qui e poi abbiamo qua un altro aiutante salve io sono il portatore con la vespa con la vespa ovviamente esatto aiutante che ci ha aiutato chiaramente a scaricarlo perché questo signorino qua era un perlomeglio era un perlomeglio perché questo signorino qua non pesa assolutamente poco abbiamo chiaramente poi nella scatolina ma vi farò vedere tutto meglio l'altro paio di griffe un tour a VD40 inclusa ovviamente perché dobbiamo mantenerlo come è giusto che sia unto come tutte le cose unte le cose unte sono belle sono migliori esatto e poi andrò a comprare degli utensili perché non ce n'erano in dotazione e beh poi andremo a rimuovere tutti i dpi perché non serve sì dpi di filino noi lavoreremo solo con questo esatto ti tornisci direttamente le dita che saltano perfetto andremo a bucarlo alleggerirlo perché lavorazione più leggera vuol dire più meglio meno peso che gira esatto meno vibrazione quindi il tornio lavora lavora più velocemente sì ma alleggeriamolo alleggeriamolo ragazzi sì esatto anche qui guarda qua sti scalino sì ma no ma anche qua accorciamola la cosa tutte queste viti a cosa servono niente tira via tira via tira via tira via tira via tutto va 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 dai era giusto per annunciarvi la presentazione finalmente del tornio che è arrivato che lo aspettavo da veramente tanto tempo l'ho trovato l'ho portato a casa vedremo come si comporterà e faremo poi un video in seguito io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale tasto iscriviti sotto al video da Faro anzi dalla non Faro Caverna perché qua siamo in un'altra caverna ma non non Faro Caverna per il momento è tutto da sic vince da presentati mi devo presentare io mi rappresentavo la sua di qualcosa Federico Tagliato perfetto è tutto da FaroTube è tutto un saluto alla prossima ciao